Con il Covid-19 che ha ripreso a circolare rapidamente nella nostra regione, sono sempre di più i giovani a risultare positivi. La variante Delta, secondo le stime, raggiunge attualmente il 50-60% di prevalenza. L'età più colpita è quella tra i 20-29, i 30-39, che sono anche i ragazzi più esposti. E sono anche le categorie che in questo momento si sono meno vaccinate. Quindi, insomma, è sull'oro che adesso dobbiamo cercare di lavorare per spingerli un po' alla vaccinazione, che diventa, e lo ribadisco ancora una volta, l'elemento, come dire, divisivo. Cioè, oggi il virus lo si può incontrare anche avendo fatto la vaccinazione, però non si va in ospedale, non si va in rianimazione, non si rischia la vita. Chi invece, come sta accadendo in queste ore, non è vaccinato o è vaccinato con una sola dose, e mette a rischio la vita sua anche quella degli altri. L'Abruzzo è una delle regioni che, con questi ritmi di crescita, rischia di passare in zona gialla già durante l'estate, probabilmente a fine agosto. Ma una buona notizia proviene dal fronte delle dosi di vaccino, visto che il generale Figliuolo ha annunciato per la nostra regione l'arrivo di dosi extra nel mese di luglio. Notizia accolta con grande soddisfazione da parte dell'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che segue da vicino e senza sosta l'andamento della campagna vaccinale, giunta ora nel suo punto cruciale. Questo serve per coprire tutti quanti, diciamole, i richiami, le seconde dosi e le prime dosi prenotate nel mese di luglio. All'inizio del mese avevano detto che ci sarebbe stata una riduzione del 5%, di fatto poi questa riduzione sul campo si è vista. E quindi nella giornata di ieri l'assessore Verì ha parlato con la struttura e poi ho continuato io il resto dell'attività di contatto. Ieri c'è stato come un assessore che ci ha comunicato che arriveranno 17.000 dosi, una prima parte 10.000 il 19 e una seconda parte 7.000 il 28.000. Queste dosi ci permetteranno di rispettare il croplamo. L'Abruzzo sta correndo tantissimo sul fronte dell'immunità di Greggio, secondo lei quando? Ieri ci davano al primo settembre, quindi voglio dire ci dovremmo essere. D'altra parte l'Abruzzo oggi è al 65% di popolazione vaccinata e quindi mi sembra che l'andamento è buono. Ieri queste società che fanno questi studi ci davano al primo settembre. Anche a noi ci risulta questa la data, perché insomma il primo settembre dovremmo raggiungere l'immunità di Greggio. Però oggi il tema è un altro, oggi il tema è andare a individuare tutte quelle persone che ancora non sono vaccinate. In particolare della scuola, perché questo è l'input che ci è stato dato, anche dal generale, anche se non è facilissimo. Perché noi in Abruzzo abbiamo vaccinato il 95% di quelli che avevano aderiti, che avevano manifestato la volontà di vaccinarsi. Però su quelli stiamo lavorando e continuiamo ancora a fare una campagna di sensibilizzazione per tutto il resto della popolazione.